L'offerta museale italiana è di una importanza che tutti conosciamo, ma anche di una complessità estrema e diversificazione ampissima e questo è assolutamente un valore. Tuttavia per chi fruisce di questa vastissima realtà di una parte o dell'altra è difficile identificare un museo come tale, ovvero che cosa qualifica un museo, soprattutto non solo per l'utenza esterna che per i cittadini che attraverso questi musei vogliono anche crescere, quindi costruire un sistema museo nazionale nella flessibilità del termine museo vuol dire mettere in rete per far funzionare insieme ma per spiegare anche agli altri che cos'è il museo e quindi rendere attrattivo.